Giulio Coniglio e Nina Porcellina di Nicoletta Costa Nel bosco di Nino Coniglio arriva un furgoncino azzurro. Sopra c'è scritto Nina Porcellina gelati. Il furgone si ferma sul prato. Nina Porcellina si mette a preparare i tavoli per bene. I suoi gelati sono squisiti e hanno tanti gusti diversi. Giulio Coniglio e la lepre gelsumina sono i primi ad arrivare. Chiedono due cone giganti al gusto di carota. Poi arrivano Vasco Scoiattolo e Listrice Ignazio. Vasco ordina un cono al gusto di castagna, mentre Ignazio va matto per la crema. La lumaca Laura invece prende una coppetta di pistacchio con la cilieginia sopra. Il topo Tommaso vorrebbe un gelato al formaggio, ma non c'è. Allora decide di prendere fragola e cioccolato, come l'oca Caterina. Walter la Volpe non ha ancora deciso quale gelato mangiare. Gli amici gustano il gelato in silenzio. È proprio squisito. All'improvviso però si sente il rombo di un tuono. Tanti lungoloni grigi si avvicinano veloci. Ora piove forte forte e il vento fa volare la tenda. I coni! Che disastro! Tutti corrono a riparo! Nina Porcellina si è bagnata tutta. Poverina! Per fortuna arriva Giulio Coniglio che la ripara con l'ombrello. Vieni da me ad asciugarti, le dice, altrimenti ti prenderai un raffreddore. A casa di Giulio Coniglio Nina si asciuga e si mette una coperta addosso. Poi beve una tazza di tè caldo alla carota. Ora si sente meglio. Gli amici si siedono sul divano e aspettano che smetta di piovere. Non preoccuparti Nina, dice Caterina. Ti aiuteremo noi a rimettere a posto. Nina sorride. Anche Giulio sorride. È felice di avere una nuova amica.